Sì, non c'è un'altra volta, bro. Bro, veste, colgiamo la volta, ripeto. Ripeto, ripeto. Vieni solo. Vieni. Bro, vieni un'altra volta. Bimbi 들어가 un'', vieni a اور un' others. Vieni, 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 vieni. Rai, usa, vieni, 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 vieni. Vieni, vieni, vieni. Il schneller untiché il. Vieni ben c'è, vieni, vieni a hot top. Sì, c'è una fai messa come ora, poi c'è una messa di giocatore. che ci sono���i ad essere arrivati Pannia azzurra, azzurra Ragazzi, come è abbia mai Come ci si Come, andiamo a partire Come andiamo la domanda Non i abbiamo Qui in Palaboya Masi degli Adjisi Adjisi Puoi che riesci Mi 돌�iamo Edio大家 Non è vero, non è vero 3 3 4 4 4 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 6 10 5 5 5 5 6 6 7 9 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 14 14 15 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 No, non c'è il nostro canale. Bro..bro.. non è un po' wo? ci sono i morti.. Siamo qui. Siamo qui. Ci sono due parole. Ci sono due due parole. Oh! Chi è? Come su qui? Mi ha fatto un'unico. Oh! Oh! Sì, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero. I need a tempesture che vedi e vissi Forci, i tipi di rinchiare I dimenti di tempesture che vedi I che vedi tempo che inizia I dimenti di rinchiare I dimenti di rinchiare They vedi I dimenti Vio Sì, non è vero. Surya, bro. Sannikki, vedi la sicurama. Mi non c'è? Non c'è l'ho? Non c'è l'ho? Non c'è l'ho? il vino vino nuovo no il vino il vino ci si trovarà il vino vino il vino vino si è avuto tu non 3 3 1 2 2 Cosa, per quanto vedi a lei, per quanto è reale? 환etita, per quanto è reale? Cosa era la Commissione? Per quanto è reale? Il suo gruppo, dice! Il suo gruppo il suo gruppo il mio gruppo il mio gruppo, è uscito quindi? no? no? no no no